Siamo con Coach Mascio, a parte il finale della partita un po' agitato diciamo, è stata una buona partita anche da parte vostra, avete messo in sede difficoltà all'Acropoli? Assolutamente, noi avevamo bisogno dopo la pausa di trovare una squadra viva che sia pronta a vincere le partite che ci possano portare alla salvezza. Giocavamo sul campo della vicecapolista, sapevamo che era difficile, però essere arrivati fino agli ultimi minuti e mettere in discussione la partita per me è una cosa che vale tantissimo e da qui dobbiamo ripartire. Avevate anche qualche assenza mi pare stasera? Sì, c'era Onorio Petrazzoli che era fuori, abbiamo inserito Matteo Serravalli che ha fatto una... E' uno dei migliori è stato? Assolutamente un'ottima partita, peccato per le situazioni extra basche che sono successe soprattutto verso la fine della partita, a me ne ha insegnato una cosa semplicissima fin da piccolo, che bisogna saper perdere e bisogna saper vincere. Io sinceramente, me ne dispiace, non ho visto questo sia nella partita dell'andata vinta sia nella partita di ritorno persa. Noi siamo... non possiamo far mettere paura a una corazzata come Agropoli, perché tanta cretine, perché tanti richiami alla partita dell'andata? Bisogna saper perdere e bisogna saper vincere nella vita. Sinceramente io la partita dell'andata c'ero, l'ho vista, è stata una... per quanto riguarda la Coppa è stata una delle più brutte partite del campionato, voi l'avete vinta meritatamente dopo un supplementato, l'avevate vinta anche nei regolamentari, l'agropoli riuscì a fare... non ricordo della cretine, quello che è successo, magari degli screzzi in campo che ci possono stare. Però stasera non ho capito cosa sia successo alla fine, dopo il tecnico chiamato a Marinello mi pare che si sia scatenato un po' il putifero, anche da parte sua, coach, mi pare che ci sia stato un po' di... perché poi il pubblico è ovvio, chi guarda la partita... non so, io sinceramente da questa posizione mi sono accorto di poco. Io non parlo del pubblico, il pubblico ha fatto la sua parte. Abbiamo avuto per tutta la partita richiami da parte dei vari giocatori, alla partita andata con episodi passati e questo è frutto di una preparazione della partita in tal senso, e questo a me mi dispiace perché... Ci può dire anche a chi si riferisce, per dire nome e nome dei giocatori, perché io sinceramente mi sembra di aver visto in campo una partita tranquilla fino al tecnico fischiato per simulazione a Palma. Lei non ha sentito le varie frasi che i vari giocatori passando vicino alla panchita mi hanno detto, di richiamo della prima parte, fino ad arrivare all'assurdità che Serino mi ha rinfacciato perché io a 40 secondi dalla fine, stando sotto di 10 punti, ho chiamato il mio time out. Posso chiamare un time out quando sto sotto per dire ai miei giocatori non voglio espulsioni e voglio giocare con San Zevere al completo? O è lecito che l'allenatore che sta sotto, non quello che sta sopra, possa chiamare un time out. Tutto questo mi porta a pensare che la partita sia stata, come ti, preparata in quest'ottica. E mi dispiace perché per battere Menafro non serve questo, siete più forti. No, pure perché io ho notato, a proposito di Serino, che sia all'andata che al ritorno, Serino ha sofferto molto per gara. E l'ha sofferto anche questa sera per gara. Sì, ma Serino è forse il miglior, come numeri, il miglior lungo del campionato. Io mi tengo per gara tutta la vita, questo è chiaro, visto le due partite che ha fatto e tutto il campionato che sta facendo. Ma io parlo d'altro, bisogna... Io tutta la settimana l'ho fatta tecnica, qualcun altro non l'ha fatta tecnica. E questo mi dispiace perché non serve, non serve. Io sono veramente Serino e mi stupisco di come... Io non faccio questo come professionismo. Le altre persone che fanno questo come professionismo scendono in questi giochetti. Non serve, siete troppo forti, non vi serve. Che l'Agropoli sia troppo forte, non sono molto... No, nel senso che l'Agropoli ha giocato a lunghi tratti con quattro under in campo. Comunque, riparliamo di basket. Volevo chiedere anche a lei, come ho fatto con Paternosser poc'anzi, chiederle, ma a cosa serve questa fase d'orologio? Serve a pagare altre tasse gare. Ok, è stata una risposta chiarissima. Io le faccio gli in bocca al lupo, coach. Poi è chiaro che ogni volta che finisce le partite, nel campo ci si possono dire anche delle cattive, però quando finiscono le partite dobbiamo darci la mano, come hanno fatto Marinello e tutti gli altri giocatori, seriamente. Assolutamente, al quarantesimo si finisce. Lei è stato gentilissimo con le domande. Io auguro ad Agropoli di fare un ottimo play-off perché ha fatto un gratissimo campionato insieme, secondo me, a Francavilla e a Martina. sta producendo di più di quello che probabilmente il roster ha. Voi avete diversi giovani che sono stati, come dire, esaltati da un ottimo coach come Antonio Paternosser. Pensiamo alle cose tecniche. Grazie, coach e in bocca al lupo per il finale. Grazie, coach. Grazie a voi.